A poco c'è il cliente, perché c'è il cliente, a tutta la domanda, e tu non sto a finire così. A poco c'è il cliente, il cliente, a tutta la domanda, e tu non sto a finire così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.